L'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti del sindacato italiano lavoratori pulizia locale, SILPOL, nell'ambito dell'esame dei proposti di legge CASU e Gaetana Russo, recate a disposizione in materia di cancellazione dei pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte dell'audito, sarà trasmessa in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio l'audito per aver raccolto l'invito della Commissione e ricordo che l'intervento dovrà essere contenuto in un tempo massimo di 5 minuti. Do quindi la parola, bentornato da ieri, a Giuseppe Gemellaro, segretario nazionale di SILPOL. Grazie anche per l'attesa. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, buongiorno. Chiedo scusa per quanto è successo ieri, ma abbiamo avuto un po' di peripezie. L'argomento di disegni di legge in trattazione potrebbe sembrare marginale ed esulerebbe da quello che è il ruolo della polizia locale. Invece rientra perfettamente come tante materie che riguardano il vivere quotidiano e che poi hanno a che fare con le funzioni della polizia locale. Quindi il ragionamento che io cercherò di fare oggi è il mio contributo sul tema, ma soprattutto sulla cornice dentro cui questo tema si sviluppa. È chiaro che la cancellazione dei veicoli fuori uso potrebbe sembrare, per questa fattispecie, come dicevo prima, una condizione che non attiene direttamente alla funzione della polizia locale. Ma noi sappiamo benissimo che attraverso i decreti sicurezza l'ambito del decoro urbano è stato devoluto ai comuni e nella fattispecie alla polizia locale. Quindi sovente noi ci troviamo a far fronte a questa evenienza, a quella di trovare dei veicoli fuori uso, dei veicoli abbandonati che costituiscono oggetto di degrado urbano. I disegni di legge vanno certamente verso la soluzione di un problema di carattere generale che riguarda quello della cancellazione dei veicoli iscritti e non iscritti al Praha. Però quando noi cerchiamo di metterlo a terra, il problema, e quindi di affrontarlo, facciamo i conti con le ordinarie difficoltà che in sede locale si hanno quando si affronta un tema del genere. Questo perché? Perché incontrare questo rifiuto sulle strade cittadine impone dover intervenire e risolvere il problema. E nel caso particolare diciamo che gli indirizzi non sono mai omogenei, perché poi si va all'organizzazione territoriale, a quello che riescono a fare in accordo le polizie locali con le strutture e gli enti preposti. E in questo senso diciamo che si provvede alla demolizione del veicolo nonostante resti, ed è giusto che sia così, in vita quello che è il debito che l'utente ha attraverso il cosiddetto fermo amministrativo. E' evidente un'altra cosa, che diciamo questo rientra nell'ambito generale e che quindi renderebbe più sinergica quest'azione sul territorio. Quella di definire delle regole generali che consentono poi da Aosta fino all'Ampedusa di trovare le stesse condizioni di operatività per chi deve intervenire su una materia come questa. E di fatto non è perché anche per quel che riguarda i protocolli che sono stati stilati, con l'Aci vi sono delle difficoltà. Io vedo che i disegni di legge tendono alla risoluzione del problema, ma ne porranno un altro che è quella di individuare il cosiddetto accertatore che dovrà fornire in sede locale la certificazione del veicolo fuori uso. E questo credo porrà dei problemi nell'individuare nella polizia locale che già di fatto oggi svolge queste funzioni un'organizzazione puntuale e rispondente. Perché è sottolineo ma è anche la continuazione del ragionamento che avevamo fatto in occasione della verifica del codice della strada, dell'audizione del codice della strada. Bisogna risolvere da l'uno i problemi e questo lo si può fare con quella legge di riforma della polizia locale perché su una materia come questa risulta evidente che noi abbiamo bisogno della consultazione delle banche dati come polizie locali e oggi questo rappresenta un vulnus non indifferente nel dare seguito a quelle che sono le procedure perché abbiamo le difficoltà da polizia locale di poterci interfacciare con le banche dati, soprattutto quando trattasi di veicoli che fra l'altro sono stati rubati o si trovano in condizioni difficilmente rintracciabili. Ma lo stesso dicasi quando bisogna andare alla ricerca di un proprietario che magari non rientra negli ambiti strettamenti comunali. Allora questo imporrebbe una presa di coscienza perché se è vero che la polizia locale deve essere affidataria di una questione come questa e comprendo che per analogia con quello che già fa sul codice della strada in applicazione dell'articolo 214 e cioè a dire il fermo amministrativo tradizionale potrebbe essere coinvolta e rientrare nel piano degli interventi tendo a evidenziare che proprio la difficoltà di norme generali che possano consentire un'utilizzazione a noi che siamo operatori delle regole uniforme su tutto il territorio nazionale crea quelle difficoltà e non risolve il problema. Ecco perché la questione oggi rappresentata è funzionale ed è sicuramente risolutiva verso un problema per dare una connotazione di carattere generale e risolvere un problema. Però se l'effettore della situazione è la polizia locale questo non può prescindere proprio perché questo onorevole Parlamento faccia e opera in tal senso nel riconoscere la necessità di quella riforma strutturale della legge di ordinamento della polizia locale che definisca anche gli ambiti e le funzioni che possono avere una rispondenza generale sull'interno territorio nazionale. Quindi in questo senso ritengo che la nostra azione come effettori di quelli che sono i decreti di sicurezza e quindi per quel che riguarda la presenza di questi rifiuti sui quali noi interveniamo proprio per rimuovere le condizioni di integrato va verso la soluzione definita e omogenea. Però tenendo conto di quello che è l'aspetto generale che sicuramente anche l'approvazione di questi disegni di legge porrà poi in sede locale nell'applicazione di questo tipo di regole. Grazie. Chiedo se vi siano deputati che interviene. Russo. Grazie Presidente. Allora ringrazio l'audito e in realtà avrai una serie di domande da porle giusto per riuscire a capire e anzi a permettere in realtà al sindacato di fornirci sullo specifico testo perché mi rendo conto che chiederci una riforma della polizia locale sia una questione e lo condivido anche con i colleghi di commissione un po' più ampia rispetto al tema che trattiamo in questa sede e quindi è ovvio che non potrebbe trovare accoglimento in questa sede e quindi volevo invitare il Dottor Gemellaro se eventualmente a fornirci indicazioni un po' più specifiche in modo tale che quella dicitura che ho previsto quantomeno nella mia proposta di legge ossia di includere tra i servizi a domanda individuale il fatto di porlo a carico dei comuni e quindi della polizia locale come giustamente diceva lei che già comunque rientra tra i poteri dettati dal fatto che ai comuni oggi spetta il decoro urbano e quindi è già devoluto e essendo polizia locale comunque appendice dei comuni a cascato ovviamente ricade su di voi e quindi volevo capire come in realtà riuscire a intervenire se c'è una possibilità in senso migliorativo rispetto a quella singola disposizione di legge che ho provisto credo nell'articolo 4 aspetti che vado a rivedere, sì esattamente nell'articolo 4 dove la dichiarazione di neutralizzabilità dei veicoli fuori uso ai fine della rotamazione in modo tale da normare in capo a chi spetti il potere di certificazione dei veicoli o se in caso contrario il sindacato ritiene che non sia un compito che debba aspettare ai comuni e quindi alla polizia locale però sarebbe un controsenso rispetto a quella stessa specifica che faceva lei e cioè sul decoro urbano che oggi è devoluto ai comuni e questa proposta di legge anche quella del collega caso si inseriva in realtà proprio anche in una questione di decoro urbano sui territori. E poi volevo farle una domanda concreta cioè capire come vi regolate fino ad oggi perché non riesco a capire il passaggio in cui lei dice che non avete accesso alla banca dati perché mi risulta che la polizia locale abbia accesso alla banca dati di tutti i veicoli e quindi anche lì se c'è una modalità di agevolarvi anche laddove venga come è previsto dalla mia proposta di legge è interessato il comune e quindi accascata alla polizia locale del potere di certificazione dei veicoli fuori uso. Grazie. Collega Casu. Grazie Presidente. Mi associo alle considerazioni della collega Russo e rivolgo anch'io lo stesso quesito con un'ulteriore considerazione ai rappresentanti della polizia locale. Noi siamo perfettamente consapevoli delle enormi difficoltà che affronta la polizia locale in termini di mezzi, di strumenti, delle problematiche spesso anche eccedenti rispetto alle prorogative lungi da noi veramente immaginare un intervento normativo che possa in qualche modo creare un sovraccarico tanto che io non avevo neanche previsto nella mia proposta che è correlata diciamo al testo base che abbiamo adottato oggi la necessità di un passaggio diciamo di certificazione come invece è specificato l'articolo 4 della proposta russo. Però la cosa che per noi è molto importante anche perché affronteremo adesso una fase emendativa e il nostro obiettivo è ottenere un intervento chirurgico su questo tema cercando di risolvere ciò che si può stante l'attuale quadro normativo perché se noi inseriamo questo tema nel tema più complessivo della riforma della polizia locale chiaramente si perde anche il senso diciamo dell'intervento normativo che sta cercando di portare avanti la Commissione e la seguente cioè voi ritenete che immaginare un ruolo della polizia locale è anche molto semplicemente descritto se è necessario proponeteci voi in termini emendativi quale può essere la formula per definirlo in maniera possa essere qualcosa che effettivamente garantisce di più che ci sia un passaggio faccio un esempio concreto già oggi è possibile se un'auto viene incendiata che arriva alla polizia locale e la polizia locale determina questo è un bene incendiato allora improvvisamente c'è l'intervento poter fare la stessa cosa che la polizia locale viene chiamata per un'auto abbandonata e a prescindere, ecco questo vado proprio alla radice dell'intervento normativo noi vorremmo che a prescindere che ci sia un fermo amministrativo o meno se un membro della polizia locale viene chiamato da alcuni cittadini o dall'amministratore e vede una macchina completamente abbandonata, distrutta, dove dentro vivono degli animali si possa procedere alla rottamazione perché comunque quel bene è solamente un problema e non ci possono essere temi ulteriori di certificazione, di passaggi, di depositi come attualmente prevede la normativa voi ritenete che questo passaggio sia un passaggio che si può percorrere oppure se ritenete che nelle more dell'attuale situazione non si possa fare cosa ci suggerite? cioè che sia una cosa che può essere fatta direttamente da chi segnala dal cittadino che si rega cioè quale può essere l'altro tipo di percorso? chiedo questo perché pur consapevole di tutte le difficoltà che affrontate non siamo nelle condizioni in questo intervento normativo e nel lavoro che stiamo facendo e anche nella scelta di poter risolvere tutti i temi però da questo punto di vista è chiaro che vogliamo mettervi nelle migliori condizioni di operare e non costituirvi un ulteriore aggravio grazie, chiedo se vi sono un altro collega Iaria allora, volevo fare una domanda perché se ho capito bene uno dei problemi mi dovrà scusare se non sarà così preciso tecnicamente uno dei problemi per quanto riguarda il decoro urbano la rimozione dei veicoli presenti sulle strade è il periodo di tempo per cui appunto si devono cercare i proprietari o non si possa spostare il veicolo prima appunto che ci sia questo passi questo periodo di tempo che adesso mi sembra che sia a sei mesi adesso non so se in questo atto noi potremmo in un certo senso lavorare anche su questo periodo una delle segnalazioni che mi erano arrivate sempre dalla Polizia Locale ma anche dai comuni stessi da chi si occupa di questo tema è quello di diminuire questo periodo in cui bisogna fare le verifiche per trovare il proprietario in modo che non ci siano problematiche con il comune perché magari se il comune decide di spostare in mezzo prima di avervi prima di che siano passati questi giorni il proprietario potrebbe rivalersi al comune stesso quindi praticamente il tema è mi sono spiegato malissimo il mio tema è che adesso la macchina che è parcheggiata che crea degrado che ferma lì il comune non la può togliere prima di questo periodo di sei mesi se noi riduciamo questo periodo tramite un emendamento che forse potremmo mettere anche qua potremmo provare a inserire questo potrebbe aiutare anche la Polizia Locale e i comuni a gestire più facilmente la dismissione dei veicoli abbandonati l'altra domanda che facevo dal 7 giugno c'è in vigore l'obbligo di di gestire tutti questi dati per quanto riguarda la cancellazione dei veicoli nel registro unico telematico dei veicoli fuori uso quindi però è un obbligo che c'è di inserire in maniera digitale questi dati soltanto da 7 giugno volevo sapere se la difficoltà vostra di reperire i dati riguarda questa banca dati che è appena nata oppure riguarda la vecchia gestione di questi registri che erano in maggior parte cartacei grazie parola a lei rispondo? sì grazie allora vorrei dare una risposta io il richiamo che ho fatto alla legge di ordinamento ha una motivazione è chiaro che non è questa commissione deputata a trattarla ma certamente la sede è autorevole perché vi sia una presa di coscienza tenendo conto di quali cose del ragionamento che in questa sede e in questa occasione lo si fa per come dire la posizione variegata che hanno gli enti territoriali e allora il disegno di legge i disegni di legge vanno nella giusta direzione nel senso di stabilire delle norme di carattere generale perché oggi la materia è stata affrontata in sede locale diciamo col buonsenso e anche con la presa di iniziativa da parte della polizia locale che di fronte a un problema di questo genere è andato a ricercarsi l'interlocuzione con gli enti competenti il PRA e il LACI per poter affrontare agevolmente e risolvere il problema perché poi il problema effettivamente lo incontriamo noi che siamo operatori della strada quindi in questo senso quello che io chiedevo è proprio che vi sia un'uniformità di indirizzo che riguardi l'operatività in generale di tutta la polizia locale e questo significa dare anche un senso di omogeneità che è quella che si può dare con una legge di carattere generale quindi rientrando anche nella fattispecie specifica è chiaro che oggi la questione la si è affrontata proprio per questi protocolli che sono stati fatti con il PRA che hanno consentito anche in vigenza del cosiddetto fermo amministrativo fiscale di radiare comunque rottamare quel tipo di veicolo e quindi toglierlo da quella incombenza cittadina la stessa cosa dicasi per quanto riguarda le circolari che sono state fatte dall'ACI ma si capisce che in questo senso vi è una estraneità di posizioni che sicuramente varranno in determinate realtà ma hanno difficoltà a essere applicate in altre realtà il problema che l'onorevole Russo sollevava riguardo al fatto di investire ma noi non abbiamo problemi ad affrontare un tema anche come questo lo facciamo già come dicevo prima per il fermo amministrativo attinente al codice della strada il problema oggi è la cosiddetta certificazione del veicolo fuori uso che di fatto viene fatta la polizia locale in determinate realtà già provvede a fare questo tipo di verifica e di attestazione ma andrebbe fatta anche con le competenze che sono come dire individuate che vanno comunque definite in modo chiaro un'altra questione riguarda le banche dati io non dico che noi abbiamo la facoltà e naturalmente di accedere alle banche dati ma questo per la polizia locale è enormemente difficoltoso e guardate soprattutto dico se si tratta di grande realtà ci sono dei sistemi più consolidati ma nelle medie e piccole realtà questo comincia a diventare un pochino come dire più pesante cosa diversa è intervenire per quelle fattispecie che riguardano lo SDI quando come veniva richiamato viene ritrovato un veicolo rubato e bisogna andare a fare la ricerca è chiaro che lì noi dobbiamo fare delle interlocuzioni mediate attraverso le forze di polizia e ordinamento nazionale che hanno la disponibilità dello SDI quindi io con questo tendo come dire a rappresentare una situazione che non è sicuramente facile può essere affrontata può essere messa a terra come si dice oggi ma con le condizioni che consentono agli operatori di polizia locale di avere di avere condizioni chiare di operatività e che consentono alla fine di svolgere la funzione precipio nei confronti dei cittadini un'altra condizione che sento di richiamare è il richiamo al cosiddetto decreto 460 del 1999 il cosiddetto decreto Ronchi dove andrebbe modificato il comma 2 dell'articolo 1 laddove prevede che dalla notifica all'interessato debbano decorre le 60 giorni sarebbe già importante ridurre questo tempo di stazionamento perché poi si pone il problema di dove andare a mantenere questi veicoli e veicoli fuori uso comunque rottami o altro che naturalmente come dire incidono sulla vivibilità dei territori urbani grazie mille grazie per il suo contributo un ringraziamento anche al personale della polizia locale quindi si faccia portavoce di questo anche i suoi iscritti molto apprezzato quindi dichiaro conclusa l'audizione grazie grazie a voi grazie